Ciao da Obaldo Schiavone, grazie ad Academy Graphic potrai scaricare gratuitamente l'ebook dal titolo Imparare a disegnare la figura umana. Per scaricarlo devi cliccare sul link sotto al video, dopodiché dovrai inserire semplicemente il tuo nome e la tua email. Potrai così scaricare l'ebook gratuito dal titolo Imparare a disegnare la figura umana.